GF VIP7, Oriana critica e imita Nikita, è più profondo parlare di unicorni. Nella casa del grande fratello VIP7 le tensioni sono sempre all'ordine del giorno. Nella serata di mercoledì 22 marzo, Oriana Marzoli ha criticato e imitato Nikita Pelizzon per la reazione avuta dopo averle chiesto se voleva giocare con gli altri a obbligo e verità. Secondo la concorrente venezuelana, la coinquilina l'avrebbe guardata come per dire che stava dicendo una cosa banale e superficiale. Dal momento che mancano pochi giorni alla finale del grande fratello VIP7, i vipponi hanno deciso di accantonare i dissapori del passato. Tuttavia, nella serata di ieri è accaduto qualcosa che ha infastidito Oriana. Scendendo nel dettaglio. La concorrente venezuelana ha raggiunto Nikita per chiederle se voleva giocare con gli altri a obbligo e verità. In un secondo momento Marzoli ha raggiunto i suoi compagni d'avventura e ha raccontato che la modella triestina l'ha fissata con uno sguardo perplesso che non le ha affatto piaciuto, ti giuro uno sguardo che mi mette. Punto hai capito. Oriana ha criticato l'atteggiamento di Nikita, fa quello sguardo e poi dice cioè. Ma non ho detto una cavolata. Non contenta la 31enne sudamericana e imitato anche Nikita con l'accento americano, forse è una cosa troppo banale e superficiale. Forse è più interessante e più profondo parlare di unicorni. A detta di Oriana, Nikita spesso guarda i suoi compagni d'avventura con un sguardo tipico delle persone americane quando dicono what. Tra Oriana e Nikita non ha mai corso un buon sangue. In particolare, la prima ha sempre nutrito una sorta di gelosia nei confronti della modella triestina anche a causa del rapporto che Pelizzone ha instaurato con Daniele Dal Moro. Nelle settimane precedenti, Marzoli si era ritrovata a parlare con Joelle del rifiuto di Nikita di fare una foto ricordo per il suo compleanno. A detta della 31enne sudamericana la richiesta di fare una foto era stata avanzata. Ma la modella avrebbe declinato. In quell'occasione Oriana aveva criticato Nikita, da adesso in poi neanche un ciao. La prima finalista del grande fratello Vip7 è convinta che la coinquilina abbia messo in atto una strategia per apparire meglio agli occhi dei telespettatori. Non è la prima volta che modella triestina finisce al centro delle critiche dei suoi compagni d'avventura. Nei giorni scorsi, Jaele, Luca Onestini e Oriana aveva preso in giro Nikita per averla vista giocare con una piuma. Con tono ironico Marzoli aveva commentato l'atteggiamento di Pelizzon, che fa? La piuma. La piuma. Sta soffiando. No vabbè, ragazzi. Io basta. No vabbè, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti.